Per combattere il cambiamento climatico la regione toscana punta sugli alberi da piantare nelle città. Il progetto sperimentale parte con un bando da 5 milioni di euro. Gli alberi saranno piantati nei 63 comuni toscani più colpiti a livello di inquinamento. Si tratta di un progetto all'avanguardia in Italia e in Europa e prevede che gli alberi facciano da filtro e assorbano la CO2 e le sostanze inquinanti come l'EPM10 e il biossido di azoto. Sì è un bando molto innovativo perché in realtà questo è un intervento che si inserisce nella strategia per il contrasto ai cambiamenti climatici che la regione toscana ha voluto rappresentare in questa Toscana carbon neutral al 2050 ovvero il raggiungimento appunto della neutralità rispetto all'emissione di CO2. Tra i 63 comuni che verranno dotati di un nuovo polmone verde ci sono tutti i capoluoghi di provincia tranne Siena e località della Piana Lucchese di quella tra Prato e Pistoia, della Media Valle del Serchio e del Comprensorio del Cuoio. Il neurobiologo Stefano Mancuso assieme alla start-up dell'Università di Firenze PNAT ha supportato la regione nella predisposizione delle linee guida operative che aiuteranno i comuni a presentare i progetti.